Come possiamo mangiare un'anima? Solo un mostro può mangiare un'anima, ragazzi pensiamoci bene, dai, guardate voi, ci possiamo fare una roba del genere. Nel 2050 i nostri mari non ci saranno più, perché cosa? Per non è gustativo. Noi oggi siamo qui all'inaugurazione di questo posto, pescaria, che arriva da Polignano, dove noi eravamo due settimane fa, a parlare di cos'è la pesca. Sapete cosa produce la pesca? Parliamo della pesca a strascico. La pesca a strascico, che viene comunemente utilizzata per sogliole, pesci piatti o anche gamberetti, produce l'80 o il 90% della pesca accessoria. Sapete cos'è la pesca accessoria? Sono tutti quegli animali ributtati in acqua, morti o agonizzanti. Parliamo di un altro tipo di pesca, la pesca col palancaro. Abbiamo dei cavi lunghi, 100 km, con all'incirca 20.000 ami. Sapete questi cosa producono? Un quarto di morte del milione di tartarughe marine. 300.000 uccelli morti per questo tipo di pesca. Per queste pesche, che ho adesso nominato, abbiamo la morte del 90% degli squali martello e degli squali bianchi del Mediterraneo. Questo è pescaria, depreda i mari. La maggioranza delle persone che mangia pesce, o le persone che erano a Corignano e andavano a pescaria, dicevano di amare il mare. Che amore è depredare il mare? Parliamo della pesca fantasma. La pesca fantasma è quella prodotta dalle reti che si rompono o che vengono lasciate in mare, dentro cui comunque gli animali muoiono. Abbiamo 300.000 delfini, balene e cetacei all'anno che muoiono per questo scendio. E adesso vi dico una cosa. Queste sono le reti, dentro cui incastrano i pesci. Pensate se voi foste sulla spiaggia, qualcuno vi buttasse addosso una rete e vi tirasse in acqua e vi lasciasse soffocare. Così muoiono i pesci. Questo è pescaria. I pesci fanno meno pressione di altri animali, perché non gridano, ma muoiono lo stesso, soffocati, di continuo. Sapete che ho previsto? Che nel 2050, e questi sono dati della FAO, non sono dati che riportiamo noi, esattamente come tutti i dati che ho appena letto. Nel 2050 gli oceani saranno vuoti, grazie anche a pescaria di Milano e di Polignano, che invece che evolversi e dar da mangiare il vegetale, continuano a dare dei morti che levano le risorse a tutto il pianeta. Sapete dove vanno a finire gli avanzi della macellazione degli animali terrestri? Nei pesci che vi mangiate qui dentro? E gli sparti del pesce negli animali dei mattatoi? Tutto questo è naturale? Tutto questo è logico? Nei 2050 i vostri figli non potranno rivedere come pesce in mare? Per tutti gli animali, libertà! Per tutti gli animali, libertà! Per tutti gli animali, libertà! Io Polignano lo nomino perché è un posto bellissimo, è un posto bellissimo, per la pesca e dai pescatori. I dati fa, dicono, che se non si andrà verso un'alimentazione vegetale, non basterà più il mangiare per tutti! Perché noi siamo vegani? Per gli animali che muoiono, per la gente che muore di fame, Per tutti questi dati che ho appena nominato li potete trovare su qualche affidatore di ricerca, non c'è da ridere, i tuoi figli non vedranno più pesci, le persone che muoiono di fame di cui parlate tanto grazie a questa alimentazione continueranno a morire di fame. I delfini, le barbaroghe che vi piacciono tanto finiscono impigliate nelle reti a strascico e muoiono anche loro, gli uccelli marini muoiono anche loro, ripeto il 90% della pesca a strascico è riportato in mare, morto o agonizzante, vi sembra giusto? Vi sembra normale tutto questo? Per tutti gli animali! Libertà! Per tutti gli animali! Libertà! Libertà!